Vuoi uscire con me? Comunque stai dicendo? Non mi ho risposto! Non ci so che ho avuto, non sapevo. Ma non mi hai risposto? No. No, non mi hai risposto o no, non vuoi? Non voglio. No, seriamente, vuoi uscire con me? No. Ecco. Sono brutto? Sì. Quanto costa il tuo outfit? No. Quanto costa il tuo outfit, per favore? 15, Nani. 15? Nani. Ti sto sul cazzo, quindi. Dice... Dice... No. No. Tu... Andate Andate